Chi è chiamato da Dio non si vanta, non va in cerca di riconoscimenti né di applausi effimeri, non sente di essere salito di categoria e non tratta gli altri come se fosse su un piedistallo. È la raccomandazione che Papa Francesco ha rivolto a sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi e movimenti cattolici in occasione dei Vespri nella Cattedrale di Assunzione. Come in un'armonia, i discepoli di Cristo dovrebbero collaborare con fecondità perché profondamente consonanti con lo Spirito Santo, contrastando le sterili divisioni. Pur con tutti i limiti individuali, il Pontefice ha chiesto ai presenti di conformarsi sempre più all'esempio del Figlio di Dio perché stare attaccati a Gesù dà profondità alla vocazione cristiana. La preghiera, aggiunto, fa emergere quello che stiamo vivendo o che dovremmo vivere nella vita quotidiana, almeno la preghiera che non vuole essere alienante o solo decorativa. Grazie a tutti.